Con Simone Sampo, Elix 2021, 16-17 ottobre a Cherasco. Presidente, cosa ci dobbiamo aspettare per questa edizione? Quest'anno vogliamo un po' dimostrare al mondo la crescita della nostra chiocciola. Sarà un'edizione, a mio avviso, incredibile. Ci sarà un'area food in tutta la piazza dell'Arco Belvedere. Quindi ritorniamo nel cuore di Cherasco, un padiglione trasparente di mille metri quadrati dove andrà in onda la trattoria della chiocciola. Quindi vorremmo che i piatti della tradizione fossero sempre presenti nella nostra crescita, ma porteremo sei chef stellati e daremo la possibilità di mangiare piatti innovativi con la chiocciola. Ci sarà anche la parte del padiglione della chiocciola cool, la pizza con la chiocciola, il grande maestro del sushi, Wiki Brian, che verrà a cucinare il maki di chiocciola. E onore al mio ambasciatore Maurilio Garola che cucinerà l'Escargot Burger. Avremo partner incredibili e contratto con le sue bollicine, i cocktail del Mago Rabin, il gin di Engine, Battassiolo, quindi i grandi baroli delle Langhe. Cercheremo veramente di fare un grande cinema, pensate che abbiamo anche l'acqua elicoidale. La domenica sarà una giornata invece dove alcuni miei amici artisti, Samuel Day in subsonica, con i Banda Cadavra, ci alleggeranno un po' la giornata, ci faranno divertire. Ci saranno dei talk Teo Musso, Fulvio Marino, Maurilio Garola, Giorgio Rivetti, Paolo Dell'Amora. Cercheremo veramente di farvi vibrare il cuore, di portarvi la chiocciola e di farvela assaggiare in più piatti possibili. Sarà un'edizione unica, un'edizione dove un po' come il taste di Firenze si sposterà nella nostra bellissima Cherasco e chiuderemo lunedì sera con Baciami Stupida, con gli amici, con Paolo Mollo, dove un po' per tradizione, vista come la festa di Cherasco, per un evento a mio avviso unico, rispetteremo ovviamente tutte le norme anti-covid, ma abbiamo di nuovo voglia di divertirci e come dice la canzone di Samuel, ricominciamo a saltare. Sì, ecco che cosa sarà Elix quest'anno. Allora, lei prima ci ha fatto fare un giro, un tour per noi giornalisti nel quartiere generale e ci raccontava che sei anni fa qui c'era poco o nulla. Non c'era nulla e proprio in questa edizione qua ci saranno sei workshop, ci saranno le visite nel polo dell'elicicoltura, potrete vedere gli allevamenti 4.0, la visita dell'Accademia della Chiocciola, potrete vedere le estrazioni della bava, i siti di produzione della cosmetica, il food, i siti di stoccaggio, potrete vedere questo nuovo mondo elicoidale che si chiama Elix e che in parte sta riportando dignità alle persone, a chi vuole veramente investire in questo settore, vedrete una squadra di esperti che si metteranno in quattro per fare in modo che chi investe possa essere seguito e possa essere veramente inteso come sviluppo economico. Un'altra eccellenza delle Langhe come il vino, come il tartufo e come la nocciola che si prende il suo spazio e vuole far vedere che ancora oggi è bello sognare ed è bello avvicinarsi al territorio. Per chiudere, ovviamente come ha detto lei, invitando poi il 16-17 ottobre ad andare a Cherasco, chiudo guardando uno dei vostri claim, perché a Cherasco le chioccele sono uno spettacolo? Perché faremo un grande cinema, Tinto presenterà questa edizione, faremo in modo che le persone che vengano a Cherasco possano realmente divertirsi assaggiando questo mollusco e cucinandolo nelle maniere più impensate, senza mai trascurando la tradizione della nostra chiocciola. Anche perché, e poi chiudiamo veramente, lei diceva prima, soprattutto durante il lockdown e nei primi mesi post-lockdown, tanti, anche dell'elite, hanno veramente capito che l'elicicoltura e le chioccele erano una via di fuga, ma una via di fuga di successo. Assolutamente, sempre più persone stanno investendo in questo settore, la dimostrazione è proprio che qua a Cherasco siamo diventati il più grande gruppo al mondo nel settore dell'elicicoltura. Un processo di internazionalizzazione del metodo Cherasco sta arrivando un po', oggi siamo in 18 paesi al mondo, la dimostrazione è che quest'anno ci sarà un ministro dell'agricoltura di un paese estero, che è la Georgia, avremo l'onore di ospitare il sottosegretario Centinaio, Allegra Agnelli, la Chiabotto e tutta la classe scientifica del Ministero della Salute. Quindi io sono onorato, ma vogliamo veramente farvi divertire in questo mondo elicoidale. Come dico sempre, salutandovi col saluto elicoidale, il futuro è chiocciola.